oh ok io sono andre in questo nuovissimo video con zig zag 19 alla corte dei wufi e qui con no il cammello Swain In nel frattempo io mi caccio la maschera da quello che ho saludato E mi rimetto gli occhialini Così posso vedere benissimo Oh questo video Madonna mia Accadine full Attivato Mi giuro È un casino Questi occhi Sono occhi Buggate Allora Ho abbassato un pochettino L'audio del gioco Però Adesso Lo alzo leggermente Camerot Svau Tu vedi Con l'impostazione che ho messo Il gioco Si vede bene? Si si Ok perché purtroppo ragazzi Essendo che sto facendo un video Allora Ho deciso di fare il video Per quanto riguarda Le missioni Quindi ragazzi Per il momento io giocherò Poi magari farò tipo secondari Faccio vedere velocemente la mappa Tipo questo qua Tipo il consiglio di moda Ste cose qua Paghi i conti O spedale Sono tipo missioni piccoline Che ti danno qualche soldo Che io infatti prima Ne ho fatte un pochettino Se vede C'ho infatti L'ultimo video Ho visto con tipo pochissimi soldi Invece adesso sono 750.000 Ecco Andiamo tranquillamente A farvi vedere Sia la missione secondaria Che ho deciso di fare così Ovvero L'indizio Bobstar 2 Che sarebbe la seconda Missione secondaria Oppure tipo Queste missioni poliziotto Oddio no Sbagliato Incarico poliziotto no Però vi farò vedere L'indizio Bobstar 2 E i rocket minibus Che sono missioni principali E missioni secondaria Ora per esempio Andiamo a fare una principale Direttamente E la segniamo subito Nella mappa Anzi non c'è proprio bisogno Che la segno forse Perché io basta Che faccio così E ci andiamo Perfetto Andiamo subito a fare la missione Però va bene così Poi più avanti Comprerò anche dei vestiti E vediamo se mi ricordo Come si gioca Già non mi ricordo un cazzo Quello gioco Allora Già non mi ricordo niente Già giocato una sola Eh Quanti giorni fa C'ho giocato Allora andiamo un attimino Andiamo a prendere un veicolo Velocemente E prendiamo il furgone Dato che facciamo Visto e prendiamo un furgone Bene Così mi ammazziamo tutti quanti Purtroppo non ho avuto La possibilità Di poter cacciare Nessuno Perché Forse c'è molto bisogno Di andare a prendere il furgone Perché ha dei passi Allora qui è qua la missione Quindi Parcheggio qua Questa è la canzone dei ritardati Ragazzi Ok Vediamo se mi fa andare Possibile la macchina Ok perfetto Quella macchina Con furgoni Questo caso è bene Perfetto Vai qui una foto Svacola tu Fatto Ok Ok Stavate ripetati Questa volta del turno Mi ha dato fiducia Visto Farà questo Visto Le sigarette Mi piace il tuo atteggiamento Ti porterò lontano Vedrai Sennò è per un cazzo Vado a prendere il minibus Vediamo un pochettino Vado a prendere il minibus Se vuoi guidare Su un percorso Devi pagare Esatto Non c'è la fermata Mario Bros. Drive Il percorso Fatico Tutta la brutta città Non conosco un cazzo In dire Però il mio personaggio Sicuramente si Beh Da ora in poi Grazie 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 Con Jackie Chan Ragazzi Andremo in questo Zono Mi sa Dove piede Una pezzetta Ma non me ne frete Quella è un coglione Oddio sei come risolvi il problema Sarà un grande piacere 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 Giovanni Merda Devo rispondere Non rispondi Dove che ho l'iPhone O dietro un denner Andiamo 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 a fanculo Andiamo Questo gioco però Armino non ho toccato Passiamo sull'offensiva Ok Fermare l'autobust Devo guidare l'autobust Ok Ammazziamoci quattro persone Io lo dimentico sempre Che questo Si vede di GTA 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 Town Che poi esiste il gioco Veramente Si chiama GTA GTA Town Però Questo non è GTA Town Ma è Hong Kong Quindi ancora peggio Che cosa ha muzzo Sto dicendo Oddio frena Ok Fermate l'autobust Devo prendere le passacchie Ah ok Io devo fermare le persone Per andare a prendere A calcire con gli altri Ok Ti è dovuto per te parare Mentre stessi Oh Ma è diventato Devo speed Di colpa Attenzione Vediamo un pochettino Oh Levate le balle Contro Contro mano Contro minchia Madonna mia Ragazzi Ho fatto una cosa Che non fa nessuno Non fa nessuno Frena Guarda per quanto Non mi sono speciato Contro quella macchina E la facevo volare dentro Ah già sono Ok A botte Che c'è un bacio Vado Ha arrivato Quanto permette Degli ha mascherato Aia Andando Un pochettino di lato Ok Ti ha rotto il cazzo Vedi qua Ti devo prendere i capelli E ti ziccavo Andiamo subito a chiamare Giovanni In the face Ciao Ha 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 Ișhi Ișhi V2021 Hvorig Ok questo qua Con me c'era Ah no questo con me Questa è con me Questa è CONN Non CONN Quindi Ișhi Ișhi Stare atti urp Dur� bIA happy Roish MbBI Da borsetta Io devo prendere la borsetta Come! Tepto ourство Ok Puoi quelli che vuoi ferre viva carriera non è che aveva testo adeguato il video non si tratta di nuovo invece noi siamo tutti in braccio intanto ma dopo questa cosa non è un po' ok oddio ma non è un po' che se faccio le deparate all'attività di un furgone di 80 kg 850 kg non ti permette ma so io dentro il negozio disposti gentilmente Io faccio dare la proprietà e guadagno 105 mili dollari così a rando Attenzione ragazzi la frenata di Giovanni Tutto calcolato l'ho fatta apposta perché devo fare in quel modo Si chiama la depanata di Sanpei Ci sono demolizioni in qua stiamo attenti che se c'è mangiare di facciamo danni Abbiamo tutta la battuglia dentro il culo FRENA PORCA MISERIA Andiamo a fa culo Io che devo fare? C'è un fine di pottana ok Che devo fare? Non ho capito se devo scendere o no Il mio furgone si è preso possesso del mio controllo Disturbo all'autista Ah forse te li devo rompere i coglioni si Disturbo all'autista Orca pottana Scusate ma sono contamano Ahahahahahahah Adesso si è rotto i coglioni penso L'ho investito le ho suonato nella faccia Penso che si sia rotto il cazzo Ok Ok vede vado Ah ok La gente si è spaventata penso Questa è quella Questa forse scende poi le botte E io devo vendere la ficcaro da dentro il palo No è rimasto lì Non scende manco se ve ne di Ok va bene Ok Ok C'è qualcuno che mi sta seguendo Fuggi all'imboscata Giustamente le persone a piedi Premi per andare in qualsiasi Sì certo Tutto calcolato Perché giustamente tu hai un autobus Di 80 miliardi di chili E puoi fare questi salti della madonna Adesso ti dice niente Mi sembra giusto Maramari Aiuto E niente Non stai spingendo con l'autobus C'è qualcuno che mi sta avvicinando Aspetta che lo faccio avvicinare BOOM Ma no no è tutto calcolato Ci sono tutte le città in due secondi però Eh ma fammo che lei Ho fatto un po' di danni Leggermente Ho fatto esplodere qualcosa Non so che cosa RAAH BAM Aiuto Dov'è la polizia? Ma che ne sanno i poliziotti? Eh no ha levato una roba Aiuto Perché stavo per cappottarmi Mi hai trattato la macchina Ma sai cosi? Sai cosi che vim best of two Robbe Robbe alla grande ragazzi Guarda Fermo l'accelerata Poi va vicino No così Giusto Ma dov'è muore? Alla vedere bene Ah fammoc Fuggi dal mercato Fai scendere il Fai scendere i passeggeri dal mercato Fai scendere i passeggeri dal mercato Certo dopo aver distrutto tipo mezzo autobus Avere spaccato delle macchine I passeggeri continuano a rimanere dentro l'autobus e se ne sbattono la minchia Già ma è tutto normale Distruggi tutto il mondo Tanto noi rimaniamo là Basta che ci porta destinazione Ok Va bene Oh 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 L'ho fatta apposta Oh 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 Penso che quello se Ho fatto una Come si dice Una parametri Una parasi Una parametri Una parametri Una parasi facciale Mi è arrivato il camion in faccia Scusa ero Dovevo Missione fallita E si rispondono Se sono cagata addosso E sono rimossi fino a ora Ho ucciso mezza città Però i passeggeri di No, no Rimaniamo Rimaniamo Poi la fisse cagolo perchè investa uno Cioè io non lo so Ahahahahah Questa missione mi sta piacendo un casino Andiamo da questa parte ragazzi Oddio che è Frena 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 La frenata di Carmelo Ok Siamo arrivati non so come Vivi ma siamo arrivati Capirai Abbiamo investito pure O di chi è quello? Quello è Quello è la copia cinese Del soldato del 46 di coso Di Hitman ragazzi guardatelo eccolo la Quello è Hitman Ok torna al gioco Sì siamo già al gioco 15.000 Ho rotto mezza città 15.000 Ho saputo cosa è successo ho spesso che ho detto ok Ora mi ha un zio si fida di te Certo perchè dovevo distruggere mezza città per far fidermi Lo zio dice chi c'ha ragazzi Ok Vroom La moto dice vroom che è vero che me lo smalto Allora facciamo subito così Abbiamo solamente una secondaria ovvero eliminare il fornito dei pop star Questo qua è tipo missione da poliziotto figlio di puttana Ragazzi per ora io ho questo costume Per me non ho ancora comprato altri Ho comprato tutti quei soldi e me ne ho comprato un cazzo perchè Perchè sono subito mi sono dimenticato E ragazzi Vi compiono altri vestiti in modo da usare un Particolare vestito per ogni occasione Faccio sempre così neanche le gta mi sono divertito Anche su gta online tempo fa Usavo vestiti femminili non ho mai fatto live Lo so non ho fatto nessun video su gta Ahhhh Madonna per quanto Non ho fatto i miei video su gta Ho fatto i miei video su gta Eeeh Non l'ho fatti Però magari più avanti li farò la serie Non lo so vediamo vedremo Signora la busta Per poco la signora non mi volavo la busta Inzichavo dentro la busta che sia tutto il motorino Se questo ti trova Se questo ti trova di parco lo kfu Oddio c'è uno col coltello che sta facendo La danza del ventre guardatelo quanto è bello Che quello sta facendo la danza del ventre Non sta minacciando nessuno in quel modo Elimina tutti i criminali e altri Allora posa quel Prima cosa posti quel c***o che veramente te lo picco nel c***o Vediamo che diventi il c***o tagliato Arigato e arigato Oh Eh Prendo il coltello E vi faccio affettino Inca perchè un coltello con un colpo distrugge le persone A ver che è un coltello però non una Il coltello di coso di Mac Tyson Che c***o Oddio Prendiamo un piede di porcos All'interfaccia delle camera Si si selfie ragazzi Ok Posso portare sto coso? No non posso Devo fare la telefonata Devo fare Perchè ora si fa tutto col telefono Connessione Hong Kong Polais Oddio 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 Rido eh Se qua giuro che rido veramente E' qua che palle Ok zitto No No Divi che è questo Sì Ok ce l'abbiamo fatta Eeeh Unchio del funitore con il sistema di servizio Nessun nascondiglio Va bene Ma la mia fedele machine Che in realtà è una moto Ma la chiamo machine Aspetta Ti ripremo Se faccio cosi Ever machine game Che bello Ok posso buttare Ma si posso guidare col piede di qualcuno Ma no si ok Pesso sei un genio Fatelo dire che sei un genio Ha 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 Quando passo io ti dividi Eh Eh La parla è parato Scusa Scusa La signora con tutta la macchina Ha 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 Benno Benno quasi benissimo Ha 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 Tutto calcolato ragazzi questo qui appena uscito dalla casa gli stava per arrivare alla moto in faccia guardate questa fantastica stagione un secondo si si perchè visto quelli che stava facendo una cosa sul bel youtube capito apposto mi ha firmato ok per favore tu direi perchè mi metti il danno così almeno capito guarda guarda si è messo nella posizione si stai a me frenato dentro la camminata telefona che mi stavo ficcando per chiamare urgente ho appena scoperto che con il tasto posso notare niente bella sta cazzone ok viaggia da modo che si parcheggia so guardate che branchia da modo domestica uso il sistema di soviglianza nel tono a scondiglio ok levati vedi segno la borsetta aspetti aspetti la borsetta mi porto la borsetta a casa levati boom entro in casa così con la spia alla roma rens entro in casa io e andiamo pure a prendere la bè non si sa mai ci vediamo già abbiamo avuto prima ribelliamo di nuovo anche perché abbiamo le cose gratis a casa una soda non fa male boom a terra perché noi siamo io ho la borsetta a vita praticamente non la volerò mai più vediamo cosa posso fare qui accedo il sistema di soviglianza uh minchia tipo polizia veramente che figata centro ok north point attività triade vedi c'è l'attività qua parco di kung fu attività triade infatti è quello dove sono andato prima io a mettere la telecamera identifica il foglietone e fallo arrestare io mi sa di averlo verificato io è questo vediamo ti immagino avrei stato uno sbagliato ok ok Hong Kong polizia ti devi chiedere dal resto guarda che figata veramente ho fatto giusto perché mi sembrava quello più strano in effetti chiamata da Tango li abbiamo presi ho colto tutto ho colto tutto questo i ginesi i coreani sono fantastici mi piacerà mi piacerà si vediamo un pochettino se c'ho cose nuove questo è Jackie Chan questo non sarebbe la cima di Koso questo è devi chiamare Teng devi chiamare Bo Teng chiama Teng Bo Teng esatto chiamiamo Bo Teng così pronto subito appena clicco il tasto chiama subito lo connesso mi risponde altro che scatto la risposta coreana ragazzi qualcuno dei tuoi potrebbe attivare va bene dinevi aggiornato va bene Karen Karen quello di Koso ragazzi di League of Legends in casa però subito per il contato il bersaglio il contato il fornitore il restato il fornitore può stare ok finisce la va ok c'ho le due missioni Amanda punto Amanda punto cos'è questa cosa cos'è sequestro di droga veicolo ma aspetta ma che sono queste cose leggenda retata retata antidroga quindi vedete c'ho le missioni anche antidroga ragazzi queste le farò tutte a parte incarico da poliziotti le farò a parte per fatti miei in modo che farò soldi quando voi appunto non farò i video per voi farò solamente principali e secondari ve l'ho detto e incarico missione andiamo a fare un'altra missione ragazzi anzi prima dormiamo così a random dormiamo best letto taglierò fino a quando arriverò alla missione vediamo passare 1 l'horo 6 punti 2 5 Grazie per la visione